Gianluca Sabatta! Gianluca! 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 Tu che sei stato un grande giocatore del Bari ti posso chiedere un parere su qualcosa da succedere? Gianluca ti prego, Gianluca tu sei il simbolo del calcio pulito sei il simbolo se non ci fidiamo di voi, capito? Gianluca! Gianluca tu una volta hai fatto il rigore cioè tu hai detto che non era rigore io su quello mi baso, capito? su un giocatore così non paga, non paga nessuno ha finito la partita finito la partita la che ti fa che ti fa grazie a tutti che ti fai penne francesco si ti fai che ti fai Grazie.